Domani saranno naturalmente i numeri ampi per eleggere il Presidente e poi successivamente l'Ufficio Presidente. Diventerà bellissima la vera novità politica di quest'anno. Noi abbiamo lavorato nei ultimi due anni con grande dedizione. Abbiamo creato da nulla il movimento che è riuscito a entrare nel cuore della gente. Abbiamo lanciato un messaggio che è stato appunto il nostro...